Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Dopo le molte richieste nei commenti sotto i nostri video parleremo di pensione minima e dell'aumento previsto a 780 euro con la riforma. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace su questo video per supportare il canale naturalmente tutto gratuito. Riguardo l'aumento delle pensioni minime se ne parla da diverso tempo e dovrebbe essere valutato nel quadro di una più ampia riforma del sistema previdenziale per cui pare si dovrà attendere almeno fino al 2022. Comunque tale aumento potrebbe portare le pensioni minime fino a un massimo di 780 euro. Sono attesi grandi cambiamenti nel sistema pensionistico italiano in quanto in ballo non c'è soltanto il post quota 100 che scadrà il 31 dicembre 2021 o l'aumento delle pensioni di invalidità ma anche appunto l'aumento delle pensioni minime fino ad un massimo di 780 euro. Tale iniziativa ha preso il nome di pensione minima di garanzia ovvero uno strumento che sarebbe pensato per i più giovani coloro che hanno cominciato a lavorare a partire dal primo gennaio 1996. Per i più giovani si prospetta un assegno pensionistico assai più basso rispetto a quello di oggi in quanto si baserebbe esclusivamente sui contributi versati un sistema che consegnerebbe ai pensionati di domani un assegno molto basso. L'attuale sistema previdenziale italiano prevede che a prescindere dai contributi versati vi sia soltanto l'erogazione dell'assegno sociale. Per avere diritto alla prestazione però bisogna avere almeno 67 anni. Per ottenerlo in misura piena quindi intorno ai 460 euro per 13 mensilità è necessario rientrare entro una soglia reddituale. E anche per oggi è tutto se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione un saluto a tutti